Una nuova coppia sta per conquistare i vostri schermi. Direttamente dalle paludi modenesi, Piccarra porta l'animazione nel cuore. Na na, na 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 na, mi è sembrato di sentire un rumore, rumore. Fai piano, in silenzio, se non gini che ora dorme, si sveglia, si sveglia e sono guai, guai, guai. E ti giuro che stasera, che tardi, avremo perso tutto il tempo. Assieme alla nuova arrivata Ginny, la peperina inventa tutto. E al mitologico Ficone, ovvero l'istruttore più bello del West, anche secondo i metodi un po' alternativi. Sei sicura che con questo stratagemma riuscirò a cavalcarlo? Sì, risparmi al fiato e preparate il salto. Piccarra e Ficone sono di nuovo insieme perché hanno un progetto che deve essere realizzato. Da domani qui metterò i salti. Non resterà più neanche uno spazio libero. Ma non sarà pericoloso montare sull'acqua? Giù i talloni, i piedi, avanti, in seno, a terra, sbatti i denti. Corpo fermo, spalle aperte, dai la gamba che si parte. Piccarra e Ficone presentano il posto fisso, ovvero alla ricerca del maneggio perfetto. Prossimamente sui vostri schermi.